Era un giorno di quasi estate in Argentina 47 anni fa, il 13 dicembre 1969, quando Jorge Mario Bergoglio venne ordinato presbitero dal Vescovo di Cordoba, Monsignor Castellano. In quella giornata si compiva un destino che aveva preso la sua svolta qualche anno prima, il 21 settembre del 1953, quando, dopo un colloquio con un sacerdote, il giovane Bergoglio decise che la sua vita sarebbe stata dedicata totalmente al servizio di Dio e degli uomini. Per arrivare alla consagrazione passeranno anni di studio e di formazione nella compagna di Gesù, in cui padre Bergoglio maturerà la dimensione a cui è più affezionato, quella dell'essere prete, per il suo popolo e con il suo popolo, attraverso gli anni bui della dittatura e accompagnando la lotta dei poveri per vivere con dignità, sempre custodendo l'animo del pastore, insegnato da Gesù nel Vangelo. E l'immagine del buon pastore è la chiave per entrare nello stile di misericordia che ha caratterizzato il suo episcopato e ora il pontificato, un'identità che deve essere rinnovata giorno per giorno e l'offerta eucaristica, come lo stesso Francesco ha ricordato lo scorso giugno in occasione del Giubileo dei Sacerdoti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È il senso della nostra vita. Sono le parole con cui, in un certo modo, possiamo rinnovare quotidianamente le promesse della nostra ordinazione. Grazie.